Allora in realtà no, per l'azione delle vanghe in giro si parte da qua. Quindi solo queste le canne? Sì, il materiale. Le canne sono già su, adesso ne portiamo su altre cose. Poi questi qua, più se ce ne fanno un altro mazzo. Sì, se ce ne fanno un altro mazzo. Forse le fascine di Salice e di Antonio. Vi lascio il cordino di Luigi. Sì, sì, a me. Sì. Però come riportano parecchio gli olivi. Guarda quanto taglia. Ecco. ha, a me. Allora. Io lo vengo a farlo. Ovviamente. Grazie. È una buccia. Grazie a tutti. L'altro l'altro lo sa. No, no, no. E' una bu Renata. Ho trovato un'altra buccia. Grazie a tutti.